Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi da fare da soli Allora questo glitch è attivo già da questa notte Io purtroppo dormivo, non l'ho portato quindi nulla Lo porto ora, spero che vi sia di gradimento Allora per fare questo glitch dovete avere per forza la base ragazzi E dentro la base dovrete avere un cannone orbitale Adesso vi spiego perché Intanto guardate i miei soldi che poi alla fine vi farò vedere anche alla fine del video il confronto E quindi passiamo al glitch Vediamo cosa dobbiamo fare Allora l'unica cosa che dobbiamo fare è spendere 750.000 dollari Che poi ci verranno restituiti O meglio verranno restituiti i 750.000 che abbiamo speso Più 750.000 rimborsati ragazzi Quindi andate a selezionare diciamo i 750.000 come state vedendo O meglio mira automatica Come avete visto mi ha scalato i soldi Perché è comparso un meno E una volta fatto ciò andiamo a selezionare Eccolo qui ragazzi Meno scusate pensavo avesse fatto vedere prima Andiamo a selezionare un giocatore Un giocatore qualunque Pure uno che ci sta sul cazzo Se sta in sessione E non appena fa questa schermata Contiamo un paio di secondi E andiamo in impostazioni di rete Come sono andato io Disconnettiamo ragazzi Non tocchiamo nulla Ritorniamo a impostazioni di rete E riconnettiamo la rete Una volta che ci darà questo messaggio ragazzi Andremo a figgiare E ci porterà nella storia Quando saremo nella storia Dobbiamo ritornare online ovviamente Quindi andremo a ritornare online E come per magia ragazzi Ritroveremo i nostri 750.000 Più 750.000 Quindi con questo glitch Andremo a guadagnare 750.000 dollari puliti Senza fare duplicazioni Senza fare nulla Adesso qui vi faccio vedere I miei soldi in banca Come vedete sono incrementati E ora vi metto uno screen Dove vi faccio vedere Diciamo I soldi che avevo prima E i soldi che ho adesso Prima e dopo ragazzi Se non mi credete Tornate indietro sul video Andate a verificare Approfittate di questo glitch Perché non penso durerà molto Detto questo Un saluto a tutti E al prossimo video Ciao a tutti